Il popolare di Sondrio è attivo nel settore internazionale, direi da sempre, e cosa vuol dire essere attivo, gioca un po' la sua parte, il suo ruolo sui mercati internazionali e per se stessa le attività che ha a livello internazionale sui mercati, ma anche e soprattutto di accompagnamento delle aziende all'estero. All'estero intendo soprattutto di mercati più lontani, non tanto e non solo dal punto di vista geografico, ma dal punto di vista culturale, questa mattina oggi si è parlato di cultura, di mentalità, di modi di intendere il lavoro, l'attività, l'accompagnamento su mercati lontani vuol dire far sì che l'operatore, che l'azienda sia consapevole di quelle che sono le possibilità, di quelli che sono i rischi e che cosa deve fare per evitare i rischi e per cogliere le opportunità. Il fai da te, soprattutto in questi paesi, ricordate la pubblicità, il fai da te non è consigliato e non è consigliabile, quindi è opportuno farsi accompagnare, farsi consigliare da chi i mercati li conosce, da chi sa un po' come funzionano queste cose. Noi in Cina ci siamo da tanti anni con un ufficio di rappresentanza a Shanghai che è a disposizione delle imprese, delle aziende, dei nostri clienti, c'è del personale cinese che parla anche italiano, carichi, non perfettamente comunque in grado di capire e di farsi capire. E il popolare di Sombrio naturalmente per tutto quello che è la formazione, abbiamo parlato con voi dei buoni scorsi, mettiamo a disposizione vostra, naturalmente delle aziende, la nostra business school, noi abbiamo questa business school che è questo contenitore di formazione a 360 gradi, quindi da rappresentazioni ai paesi, noi immagino che vediamo, non so, in locandine, i risultati sulla stampa, rappresentazioni ai paesi, le facciamo un'altozzina all'anno, di formazione su tematiche bancarie, dei rischi finanziari, commodities, il cambio, il tasso, il rischio paese, come fare a coprire il rischio paese piuttosto che il rischio di cambio o quant'altro, di formazione sulle tecniche proprio del commercio estero, che per certi paesi non sono proprio facilissime, non sono proprio di immediata percezione, tutto è operare con la Francia, con la Germania, magari anche col pagamento anticipato o con un cliente che conosciamo oramai da 20 anni e quindi spegnisco la terza e so che in giro di 30 giorni, 60 giorni ricevo l'importo della transazione e qui no, c'è da attivare il free finance, la lettera di credito e conferme, quindi il rischio banche, il rischio paese, ecco, una banca qua vi può aiutare, vi può indirizzare nella maniera giusta per poter approcciare mercati nuovi, mercati non facili che però possono dare utili ritorni, possono dare possibilità, però ecco, bisogna sapere che cosa si sta facendo. La banca o gli esperti, qui abbiamo visti diversi oggi pomeriggio, possono aiutare le imprese a muoversi sui mercati in piena sicurezza. Grazie.